Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Spesso sento parlare di questi regimi alimentari che prevedono l'esclusione totale dei carboidrati. Ma cosa succede al nostro organismo se decidiamo di escludere per qualche giorno completamente i carboidrati dalla nostra alimentazione? Beh, considerate che il nostro cervello per funzionare ha bisogno di glucosio, quindi a questo punto registrerà una situazione di carestia, una situazione di allarme. Allora immediatamente invierà un impulso all'ipotalamo, poi all'ipofisi, che giungerà fino alle ghiandole del surrene per produrre cortisolo. Quindi ci troviamo in una situazione di cortisolo alto. Cortisolo alto cosa andrà a fare? Andrà a smantellare le proteine nei suoi amminoacidi e poi per produrre da lì il glucosio. Ora ovviamente noi abbiamo in questo caso una perdita di peso, anche molto veloce, ma quello che stiamo perdendo non sarà la massa grassa, ma sarà la massa magra, costituita appunto da muscoli e tendini, quindi diventiamo sostanzialmente più deboli. Un'altra problematica è che questo eccesso di cortisolo mi porta alla produzione di un reverse, un RT3, e quindi un impulso all'atiroide per rallentare. Tendenzialmente tendiamo a creare un ipotiroidismo subclinico, quindi un rallentamento del metabolismo. Cosa succede nel momento in cui poi decidiamo di tornare a mangiare carboidrati dopo un approccio così radicale? Beh, solitamente andiamo a prendere ancora più peso di quello che abbiamo iniziato a inizio dieta, quindi con esclusione di carboidrati. Poi l'esclusione totale di carboidrati provoca un'acidosi sistemica, quindi il pH delle urine diventa ancora più acido, il sudore è malodorante, la pelle in generale è malodorante, si arriva alla litosi e alla steatosi epatica per aumento dei gliceridi proprio nel fegato. Quindi l'idea migliore è quella di inserire su ogni pasto, ogni giorno, almeno 2 grammi di carboidrati su chilogrammo di peso corporeo considerando il peso ideale del soggetto. Per carboidrati cosa andiamo a intendere? Frutta, verdura, legumi, cereali, sono tutti fondamentali da inserire nell'alimentazione nella maniera più opportuna. Io ti ringrazio per l'attenzione, segui i miei consigli, iscriviti al canale YouTube e condividi questo video con i tuoi amici. Ciao!